L'autore di cui parliamo oggi è Friedrich Nietzsche. Nietzsche, non Nietzsche, come a volte i miei studenti l'hanno appellato. Nietzsche penso vada bene lo stesso, ma essendo bavarese credo che la pronuncia sia un po' più dolce, quindi Friedrich Nietzsche, e così non vi sbagliate. Uno degli autori definiti da Paul Ricoeur maestri del sospetto, insieme a Marx e a Freud. In che senso? È nel senso che Marx, Freud e Nietzsche, nella prospettiva appunto di Ricoeur, sono coloro che insegnano a dubitare della realtà, dei valori della società occidentale, li sovvertono, li mettono in discussione, hanno questo in comune e di conseguenza sono proprio interessanti per questa decostruzione. che mettono in atto. L'esperienza biografica di Nietzsche è molto interessante, nel senso che a differenza, diciamo, di quello che è il percorso tipicamente accademico di altri autori, più o meno a lui contemporanei, la sua è una vita abbastanza raminga. Studia filologia da giovane, diventa docente di filologia all'università, ma nel giro di breve tempo, circa una decina d'anni, lascia appunto l'insegnamento accademico per dedicarsi appunto a una vita di viaggi in giro per l'Europa, durante i quali scrive le sue opere fondamentali. Nietzsche è un autore assolutamente non sistematico, molte sue opere sono composte da aforismi e in lui appunto l'elemento autobiografico è fondamentale. è impossibile studiare il suo pensiero se non appunto in relazione a quelle che sono le sue esperienze, una su tutte l'incontro con l'usalomè, una donna della quale lui si innamorerà perdutamente, ma che appunto lo rifiuterà a un certo punto, o meglio gli proporrà di restare amici, lo frenzonerà insomma in estrema sintesi. E questa cosa lo turberà moltissimo, quindi sicuramente ecco questo è un altro elemento da tenere presente. Un altro elemento da tenere presente è che in seguito alla sua morte tutto il corpus delle sue opere verrà in qualche modo gestito, amministrato dalla sorella di Nietzsche, Elisabeth Nietzsche. Se avete visto il film The Day After Tomorrow a un certo punto quando parlano insomma due dei protagonisti di quali libri bruciare per salvarsi dall'ondata di gelo che sta arrivando a New York, uno dei due propone di bruciare i libri di Nietzsche definendolo un porco sciovinista innamorato di sua sorella. Ecco questo semplicemente per dire che è anche legato al senso comune il rapporto profondamente stretto che lui aveva con Elisabeth Nietzsche, la quale appunto declinerà molte delle sue opere in un senso protonazista, cioè spesso si dice Nietzsche l'ispiratore del nazismo, in realtà Nietzsche probabilmente non avrebbe assolutamente accettato questa definizione e se alcuni elementi della sua filosofia vengono poi declinati in questo senso è proprio per l'opera mediatrice della sorella. La produzione di Nietzsche di solito viene divisa Mi hanno suonato alla porta un attimo Eccoci dove eravamo rimasti direi alla suddivisione delle opere di Nietzsche che possono appunto essere suddivise in tre principali periodi. Quella dei primi scritti O fase diciamo filologica, visto che appunto nella prima parte della sua vita si occupa di filologia I testi fondamentali di questa fase sono la nascita della tragedia E probabilmente quelle che sono le considerazioni inattuali In questa in particolare parla della storia e di come l'eccesso di storia sia dannoso per la vita Una seconda fase che è quella del periodo illuministico o critico In cui scrive umano troppo umano e la gaia scienza E una fase invece più tarda Chiamata o di Zaratustra o del Meriggio Insomma ci sono vari nomi È la stessa fase diciamo in cui teorizza anche alcune delle sue appunto principali suggestioni Come l'eterno ritorno e la volontà di potenza In questa fase scrive quello che è il suo capolavoro Che appunto così parlò Zaratustra Ma anche al di là del bene e del male e la genealogia della morale Altre opere le scrive tutte in un anno per lui molto significativo Il 1883 Morirà poi sette anni dopo nel 1900 Infatti è proprio considerato l'ultimo grande autore dell'800 Morirà relativamente giovane diciamo fra l'altro Perché se non sbaglio era nato nel 1844 Quindi rispetto insomma ad altri autori Avrebbe probabilmente potuto anche regalarci altre opere in futuro Ma veniamo appunto a quella che è l'opera principale del primo periodo Cioè la nascita della tragedia In quest'opera Nice divide diciamo Identifica ecco più che altro due principi fondamentali Che secondo lui appunto animano la tragedia greca classica Quella di Sofocle e di Euripide per capirci Questi due principi sono l'Apollineo e il Dionisiaco L'Apollineo rappresenta l'ordine Rappresenta l'armonia, la misura Mentre il Dionisiaco rappresenta il caos La potenza creatrice ma anche l'ebbrezza Infatti non a caso il simbolo del primo è Apollo Appunto che è una divinità solare Protettrice delle arti E il simbolo del secondo invece è Dioniso Che è il dio del vino Per Nice la tragedia greca rappresenta L'equilibrio perfetto tra la parte caotica e irrazionale Dell'animo umano mediata però appunto dalla rappresentazione poetica Già con Euripide abbiamo un cambiamento Nel senso che nelle sue tragedie Predomina il dialogo A scapito di quello che invece è l'elemento musicale o del coro Forse non l'ho detto ma sarebbe stato forse importante Premetterlo questo aspetto è fondamentale Perché il titolo completo dell'opera è La nascita della tragedia dallo spirito della musica Quindi questo elemento insomma della musica Per lui è assolutamente centrale Infatti quando poi diciamo avrà la meglio il logocentrismo Per così dire cioè Socrate, i sofisti, la parola al centro di tutto Si assisterà a una decadenza proprio della cultura occidentale Che sacrificherà quella che è la vita concreta Insomma agli ideali della razionalità Infatti e qua anticipo un elemento della seconda fase Non è la scienza per Nietzsche che deve sostituirsi Diciamo alla religione un elemento che lui rifiuta Ma al contrario anche la scienza fa parte Di tutto quell'insieme di certezze che la società occidentale deve rifuggire Deve superare Con Socrate è iniziata quella che Nietzsche chiama menzogna millenaria Cioè la costruzione di certezze razionali Che vedono il loro garante in Dio E creano appunto questo Dio proprio per sfuggire Dall'insensatezza del mondo Nella seconda fase del periodo illuministico di Nietzsche invece Lui ricorre a un metodo genealogico Infatti si chiama anche appunto a volte fase genealogica Proprio perché ogni cosa è l'esito di un processo di ricostruzione Il protagonista di questa fase è il cosiddetto viandante Che è un abbozzo del superuomo se vogliamo Cioè qualcuno appunto che come aveva fatto Nietzsche nella sua vita Viaggia per l'appunto liberandosi così del peso del passato E anche della appartenenza a un luogo, a una teoria Quella di questa fase è definita filosofia del mattino Proprio perché consente di liberare le menti dalle tenebre del passato E di conseguenza di diciamo rinunciare a tutte quelle favole metafisiche Che hanno prodotto sì sicurezza e ordine sociale Ma hanno dato solo l'illusione della felicità La principale di queste è Dio Nella Gaia Scienza viene annunciata la morte di Dio C'è proprio un passaggio famoso in cui si dice Dio è morto e voi l'avete ucciso Le chiese sono le tombe di Dio La morte di Dio è diciamo l'atto estremo del nichilismo Cioè gli esseri umani uccidono Dio In virtù di quella stessa razionalità che in qualche modo gli aveva dato la luce insomma Ma si trovano allo stesso tempo privi di certezze È una condizione questa che diciamo faticano a gestire È proprio perché non sono pronti per affrontare le terribili conseguenze di questo evento E dunque provano a sostituire Dio con tutti quelli che sono dei nuovi idoli Per esempio i miti del progresso, della scienza, l'idea dello Stato In questo senso e diciamo sempre in questa fase Proprio nella genealogia della morale Nietzsche diciamo analizza appunto quella che è la morale con il metodo genealogico E osserva come la morale è uno strumento di dominio secondo lui Che serve a un gruppo di individui per soggiogarne degli altri Le morali che lui individua diciamo sono due La morale degli schiavi che è quella del pensiero ebraico cristiano Ed è prodotta da individui inferiori per sottomettere quelli più forti Predica l'umiltà, la democrazia, l'egualitarismo Tutte cose che insomma che altri filosofi sarebbero sembrate fantastiche E invece per lui è semplicemente il frutto di un pensiero Di persone mediocri, incapaci e represse Destinata a dar via a una società conformista e omologata È in questo sicuramente insomma che affondano le radici della ripresa nicciana Che viene fatta dal nazismo La morale dei signori invece che esalta i valori della forza Della fierezza, del coraggio Viene appunto rovesciata dalla morale degli schiavi Che nega questi valori di fierezza e di forza legati anche al corpo Che per Nietzsche si associa alla musica Cioè è come secondo lui se a un certo punto la società occidentale Avesse abdicato completamente all'importanza data dall'elemento dionisiaco Del corpo, della musica E avesse affermato invece dei valori di rassegnazione Di rinuncia Di debolezza anche legati allo spirito C'è un passaggio di un libro di Milan Kundera L'insostenibile leggerezza dell'essere In cui uno dei protagonisti definisce quello che per lui sono l'Apollino e il dionisiaco L'Apollino è la polvere delle biblioteche E invece il ballo e la musica rappresentano l'elemento dionisiaco Che lo fanno sentire libero insomma dal gioco di una razionalità prepotente E che gli consentono di essere veramente se stesso Non ricordo se Nietzsche è effettivamente citato in modo esplicito Ma insomma è un passaggio che aiuta proprio a capire cosa intende Nietzsche Per lui la società occidentale appunto ha compiuto degli errori in questo senso Ed è necessario a un certo punto che qualcuno si faccia carico di queste terribili conseguenze generate E in qualche modo insomma prende in mano ecco la situazione Di questo Nietzsche parla nell'ultima fase insomma della sua filosofia In cui si assiste all'avvento dell'oltreuomo Cioè colui che è in grado di accettare le implicazioni della morte di Dio E soprattutto il pensiero dell'eterno ritorno Spesso nei libri si trova tradotto superuomo C'è un'ambiguità perché la parola tedesca è übermensch Il prefisso über in realtà vorrebbe dire oltre E super sembra che sia qualcosa di migliore degli altri Ma non è questo L'oltreuomo è un individuo nuovo Un essere libero Capace di vedere il mondo così com'è Cioè un mondo in cui non ci sono più divinità In cui non ci sono più certezze Qualcuno che ha detto sì alla vita diciamo Accettandone però l'intrinseca tragicità E oltre alla tragicità della vita Il superuomo o appunto oltreuomo È in grado di accettare anche l'elemento dionisiaco La cifra diciamo che lo contraddistingue È la volontà di potenza Il fatto cioè appunto di poter Non voler primeggiare Perché anche qui appunto altrimenti c'è un'ambiguità Ma questo è un elemento che Nietzsche riprende Per certi versi da Schopenhauer Cioè il fatto di poter desiderare Di poter avere un'azione creatrice Di poter diciamo dare un significato alle cose Farsi simile al Dio nella misura in cui Occupa quella posizione che appunto Prima era occupata dalla divinità Da questo punto di vista L'altro tema del periodo appunto di Zaratustra È quello dell'eterno ritorno Cioè l'umanità in questa fase Ha abbandonato l'idea della ciclicità A favore di una visione del tempo La linearità A favore di una visione del tempo Che invece è ciclica Il superuomo vive come se tutto dovesse ritornare Nietzsche parla di eterno ritorno dell'uguale Ed è un concetto fondamentale Che consiste sostanzialmente nell'idea Che la storia appunto abbia un andamento circolare E tutti i fatti, gli avvenimenti Sono destinati a ripetersi E a ritornare eternamente È una concezione che Nietzsche riprende Diciamo dalla filosofia greca E soprattutto da quella orientale E che si contrappone quindi alla linearità Proposta proprio dalla tradizione cristiana Ecco che l'anti cristianesimo Diciamo la prospettiva niziana È sicuramente anti cristiana Ma è anche anti evoluzionistica E anti storicistica Nel senso che in questa catena Non c'è un senso diciamo Non c'è un apprendere anche Da quelli che sono gli errori dell'umanità Ma semplicemente appunto Un ritorno dell'uguale Quindi tutto torna uguale Ecco Tutte queste varie fasi Hanno tre simboli per Nietzsche Questi tre simboli sono Il cammello nella prima fase Il leone nella seconda E infine il fanciullo nella terza Che appunto rappresenta l'oltreuomo Cioè colui che va oltre l'uomo E in questo senso inaugura Un nuovo inizio L'oltreuomo opera Una trasvalutazione dei valori E quindi anche un nuovo modo Di rapportarsi a essi Intesi come libere Manifestazioni ecco Dell'essere Dell'essere umano Nell'ultimo Nell'ultimissimo periodo Insomma Si afferma quindi ancora di più Quell'idea di nichilismo Che aveva un po' attraversato In realtà tutta quanta La produzione di Nietzsche Il nichilismo è la volontà del nulla Che può essere completo O incompleto E naturalmente Quando è completo È proprio il nichilismo Vero e proprio Insomma Quindi abbracciare Il fatto che Non c'è nulla In cui si possa credere E non c'è nulla Insomma Che si possa Davvero Creare E desiderare